Exit al gas, noi di chiave riattacca la giunta, il comitato di Via Trieste si batte contro il progetto di insediamento abitativo nell'area. L'amministrazione si dice vicino al comitato, ma il gruppo di minoranza spiega che con il PUC dell'ex amministrazione hanno previsto i parcheggi a rivede con una volumetria inferiore rispetto a quella prospettata. Botta e risposta tra CISL e ASL4, emergenza organico in ASL4, gravi problemi nel Tiguglio, dice la CISL, l'azienda sanitaria smentisce però. Corriere da lunedì scatta l'orario estivo, novità per gli autobus di ATP, nascono due nuove linee. Buonasera dal TG Tiguglio, l'amministrazione comunale di Chiavari sta con il comitato di Via Trieste che è contro il progetto di insediamento abitativo nell'area ex Italgas. Ma il gruppo di minoranza negli Chiavari replica l'aggiunta spiegando che con il PUC dell'ex amministrazione, quella di Levaggi, nell'area ex Italgas erano previsti parcheggi e aree verde con una volumetria inferiore rispetto a quella prospettata. L'amministrazione comunale di Chiavari ha incontrato il comitato di Via Trieste nato da un gruppo di residenti per tentare di fermare il progetto per la realizzazione di un insediamento abitativo nell'ex area Italgas. Siamo sempre stati totalmente contrari alla realizzazione del progetto perché troppo impattante, ha affermato il sindaco Marco Di Capua. Chiederemo parere ad un legale per verificare quali siano gli spazi a disposizione dell'amministrazione per bloccare il corso dello stesso e affrontare la questione accanto ai cittadini. La maggioranza si iscriverà al comitato. Il primo cittadino ha annunciato inutre che chiederà al deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi di chiedere al Ministero della Giustizia se ci siano norme per bloccare il progetto vista la vicinanza del cacere e spiega che Italgas si è mossa in base al piano casa regionale. Se la mia amministrazione comunale avesse approvato il PUC di Levaggi, conclude Di Capua, il progetto sarebbe stato presentato comunque nelle stesse dimensioni. Non è assolutamente vero che i palazzi sarebbero stati costruiti anche con l'approvazione del PUC di Levaggi, ha affermato invece il gruppo consigliare noi di Chiavari. Al contrario di quanto asserito, speriamo per errore e non tendenziosamente da parte dell'attuale amministrazione, con il PUC di Levaggi nell'area ex Italgas avevano previsti parcheggi aere verde con una volumetria infinitamente inferiore rispetto a quella prospettata. Sono pronto, afferma Levaggi, a provare con documentazione quanto detto per amore di verità e per non subire rappresentazioni distorte della realtà. L'amministrazione comunale, chi dice essere contraria al progetto a parole, secondo noi poteva esserlo a fatti, approvando il PUC che scongiurava il pericolo. Un malore è stato fatale per una donna che si trovava sulla spiaggia libera di fronte all'hotel Zia Piera a Chiavari. Si trattava di una donna di nazionalità francese di 70 anni che ha accusato un malore mentre era sulla battigia, sul posto, la polizia, il personale del 118 e la Croce Rossa. E malgrado i tentativi di rianimarla, per l'anziana purtroppo non c'è stato più nulla da fare. E da una polemica all'altra, botta e risposta tra CISL e ASL4 sulla presunta carenza di organico in quest'ultimo. ASL4 replica CISL che aveva lanciato l'allarme circa le carenze di organico che interessano l'azienda sanitaria locale. ASL4 dice di aver sempre attivato le procedure per la sostituzione di tutto il turnover del personale sanitario, richiedendo le necessarie deroghe alla regione. A breve, aggiunge ancora l'ASL4, entreranno in servizio sette nuovi infermieri e la città metropolitana ha pubblicato la graduatoria degli operatori sociosanitari, passo necessario per dare avvio a nuove assunzioni. Secondo l'azienda sanitaria locale, inoltre, l'utilizzo delle prestazioni aggiuntive è uno strumento previsto dalla legge e ad oggi non sono state rilevate violazioni alla normativa nazionale ed europea. L'ASL4 smentisce che le sostituzioni delle assenze per maternità e lunghe malattie siano possibili senza acquisizioni di autorizzazione regionale e per gli operatori sociosanitari, comunica che è in fase di attuazione un progetto integrativo già concordato con i sindacati. In previsione, inoltre, c'è l'esternalizzazione di alcuni servizi ed infine l'azienda ribatte che non risultano situazioni di grave criticità sulla eccedenza oraria, così come invece sostenuto dalla CISL. Andiamo a Lavagna, sono arrivate finalmente docce e scalete sulle spiagge cittadine. È stato l'assessore Enrico Piazza a seguire personalmente i lavori. Stiamo facendo il possibile a FEM per garantire a cittadini e turisti il nostro editorale ben attrezzato. Ieri invece c'è stato un intervento di pulizia dei pavimenti del centro storico, sia scoperti che sotto i potici, e oggi una spazzatrice meccanica e renazione in via Roma. Abbiamo programmato una polizia di prova, spiega l'assessore comunale Carlo Romanengo, per verificarne l'efficacia tecnica e predisporre un piano futuro annuale con particolare attenzione al periodo estivo. E serata di controlli, l'altra sera a Santa Margherita Ligure, sequestrati 50 grammi di sostanze stupefacenti. Sono iniziati i controlli speciali per garantire una movida sicura a Santa Margherita Ligure. La Polizia Municipale, la Croce Rossa, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e le unità cinofile hanno lavorato nei presi della stazione ferroviaria Cittadina, del Covo di Nord-Est e del Lungomare. Nel corso della scorsa serata sono stati sequestrati 50 grammi di sostanze stupefacenti e smaltite 146 bottiglie e 21 lattine. Intanto l'amministrazione comunale, anche per la prossima estate, ha previsto il divieto di trasportare bevande alcoliche in città, nelle notti di mercoledì e sabato, e ha in cantiere il progetto Viva la Movida, per fornire servizi utili ai giovani, per la sicurezza della città e della tutela della quiete pubblica. Presentato a Sestri Levante, Tra Mare e Battigio, un progetto di didattica attiva tra arte, natura, ambiente, poesia e lettura, che avrà la sua sede nella Biblioteca del Mare, nella frazione di Riva Trigoso. Il progetto prevede una mostra bibliografica, una mostra d'arte, sei percorsi di formazione per docenti ed educatori, 21 lavoratori e letture per bambini e ragazzi ed un evento di chiusura. Organizzano le associazioni La Scuola del Fare e Artura, territori tra arte e natura, con il sostegno di Mediaterraneo Servizi. I formatori saranno Laura Anfuso, Marcella Basso, Sonia Basilico, Franco Borgogno, Alfredo Gioventù, Hans Hermans e Daniela Mangini. Novità e cambiamo argomento, per gli autobus di ATP nascono infatti due nuove linee. Scatterà all'inizio della prossima settimana l'orario estivo delle Corriere ATP. Resterà in vigore fino a metà settembre e, a differenza di quanto avveniva alcuni anni fa, non sono previsti tagli, ma anzi il rafforzamento di alcune linee turistiche, come quella per Portofino, la linea 82, che sarà rafforzata a partire dal 1 luglio. Sarà potenziata anche la linea 98, Casalza-Santa Margherita, alla domenica, ma la novità più importante, spiegano ancora da ATP, è che saranno create due nuove linee, 45 e 45 N, tra Casalza di Rigore, Chiavari e Sestri Levante via Riva. I passeggeri si troveranno a disposizione un importante collegamento, con partenze da Chiavari, utile a mettere in collegamento Battilana, frazione di Casalza di Rigore e Riva, frazione di Sestri Levante, prima di riprendere a Sestri il consueto percorso. Prima le corse da Chiavari o andavano a Riva o andavano a Casalza, adesso Casalza e Riva sono collegate, afferma Roberto Rolandelli, direttore di servizio ATP. Il servizio prevede 8 corse feriali per la linea 45 e 7 corse feriali per la linea 45 N, ma anche 4 corse domenicali e festive. Inoltre la linea funzionerà anche di notte. Anche per questa ragione il numero complessivo di corse e di chilometri rispetto alla stagione estiva 2018 non è stato ridotto, ma aumentato. Anzi, sono state rafforzate alcune linee, come l'82 di Portofino, che dall'inizio di luglio sarà interessata da un ulteriore incremento del numero delle corse e la linea 98 da Casalza-Ligore a Santa Margherita-Ligore. Arriva anche la garanzia del chiamabus a Recco, che a un anno dalla sua introduzione si conferma un successo. Tra le altre novità, l'orario cadenzato sulla linea Casalza-Ligore-Riva-Trigoso-Chiavri, anche in questo caso per rispondere alle esigenze e alle richieste degli utenti. Grande soddisfazione viene espressa anche dal presidente di ATP Enzo Sivoli. Con l'avvio dell'orario estivo ATP rafforza il servizio con una nuova linea e una intensificazione per tutte le linee più turistiche, come la 82 e la 98. Si tratta di andare incontro alle richieste che arrivano dai cittadini e ai turisti a livello di immobilità. Prevista anche lotta a chi è senza biglietto. Durante l'estate i controlli saranno intensificati e verranno attuati su ogni linea. Nei prossimi cinque mesi dell'anno abbiamo fatto 4.500 verbali, ma i nostri verificatori non andranno in vacanza. Prevediamo anche controlli notturni, dice ancora Andrea Gimignani, direttore amministrativo di ATP. Assessore ai servizi sociali e alla famiglia Fiammetta Maggio. Sabato 15 giugno una serie di appuntamenti coinvolgeranno il lungomare per un pomeriggio e una giornata dedicata al sociale. Sì, sarà un pomeriggio dedicato al sociale in due modi. Prima di tutto una festa per i bambini. In realtà questa festa qua è già qualche anno che noi la facciamo a fine anno scolastico. Diciamo, il periodo è sempre questo. L'anno scorso l'avevamo fatta in piazza Mazzini, ha avuto successo, ma ci siamo accorte che forse non era lo spazio più adatto. Invece facendolo su piazzale del lungomare, anzi per essere...